I ragazzi hanno fatto la storia perché hanno interpretato la gara veramente bene su un terreno pesantissimo, nuovo, quindi il merito dai ragazzi, dai ragazzi, perché ci tenevano, perché i nostri tifosi ci hanno caricato oggi prima della partenza e quindi scriviamo un piccolo pezzo di storia o un grande pezzo di storia per la città, per i nostri tifosi, per il presidente di Nuno, ma il complimento va ai ragazzi, sia chi ha giocato e sia chi è entrato. La chiave della partita è l'atteggiamento, è la mentalità, noi dobbiamo mantenere questa mentalità, non si potrà sempre vincere, però l'attitudine e la mentalità deve essere questa e quindi non farci prendere dal timore di giocare fuori casa, il derby, anche perché a parte Riccardo credo che, e poi Simone e Luca che sono entrati, nessuno ha mai fatto questo derby e quindi avevo la preoccupazione di saperlo vivere, un derby. I ragazzi invece hanno giocato con la mente sgombra, consapevoli che potevamo vincere la partita e lo hanno fatto fin da subito, quindi è avere anche avuto la pazienza. Abbiamo sbagliato qualcosina, però abbiamo avuto sempre la pazienza e nel momento opportuno abbiamo colpito.